IPM, non ci sono dubbi, Antonella Patrucco è responsabile della tragedia di Quarniento quanto il marito Gianni Vincenti, e come lui, deve essere rinchiusa in carcere prima del processo fissato in corte d'assisa ad Alessandria al 4 maggio quando i due saranno giudicati per un micidio doloso plurimo, lesioni volontarie, crollo doloso di abitazione, truffa all'assicurazione e calugna nei confronti di un vicino di casa. Al momento però il GIP ha ritenuto che non ci sono più le esigenze cautelari che possano rendere necessario e urgente l'arresto della donna. Decisione subito impugnata dal procuratore Enrico Ceri e dal sostituto Elisa Frus che la pensano in maniera diametralmente opposta. Il ruolo di Antonella Patrucco in questa vicenda, tanto drammatica quanto allucinante, non è ancora chiaro, nonostante ci siano elementi oggettivi che sembrano ricondurre la sua figura a un coinvolgimento diretto in quello che doveva essere un grottesco piano ingegnato dal marito per riscuotere i soldi dell'assicurazione e potersi così risollevare dal vortice dei debiti nei quali la famiglia era capitolata. E se Vincenti, una volta braccato dopo cinque giorni dalla tragedia, aveva confessato tutto prendendosi interamente la colpa, l'apatrucco è sempre stata una figura nell'ombra. Dopo l'arresto del marito ne aveva subito preso le distanze, forse per strategia difensiva dei suoi legali, Caterina Brambilla e Federico Di Blasi, i quali evidentemente palesavano fin dall'inizio che anche la loro assistita prima o poi potesse finire nel mirino degli inquirenti ed essere accusata degli stessi reati del Vincenti. Vincenti, che nell'agosto scorso, tre mesi prima della tragedia, si recò all'assicurazione intestata alla Patrucco per ampliare il premio della casa di Quarniento, di proprietà sempre della Patrucco, anche nel caso la cascina fosse stata interessata da un incendio. Possibile che la donna fosse realmente all'oscuro di tutto, si saranno presumibilmente chiesti gli inquirenti. E poi c'è ancora un ulteriore importante dettaglio che sarà discusso e analizzato in aula, ovvero quel foglietto di istruzioni lasciato sul comode alla camera da letto anche nei giorni successivi alla morte dei tre vigili del fuoco, quando i Vincenti erano al centro delle indagini. Il bugiardino conteneva le istruzioni per quei timer usati maldestramente per decidere l'orario esatto in cui le sette bombole cariche di gas collocate nelle varie stanze della casa andate in pezzi avrebbero dovuto esplodere. Anche qui, possibile che la moglie del Vincenti non lo abbia notato, lasciandolo alla merce dei carabinieri che nel corso di una perquisizione lo misero immediatamente agli atti. Ma non basta ancora, perché la coppia fu vista insieme più volte in auto mentre giungeva e ripartiva dal luogo del delitto. Questi al momento gli elementi noti e supposti che ruotano attorno alla presunta responsabilità di Antonella Patrucco finita a giudizio immediato insieme al marito Reo Confesso.